La due giorni iniziale dell'ippodromo del Savio si è conclusa in bello stile, con un sabato di buon livello tecnico su cui spiccava il miglio per anziani posto come sesto appuntamento serale. Da non trascurare comunque le due sfide riservate ai gentleman, decisive per l'assegnazione del passo al campionato italiano di categoria, collocate in apertura di serata. Alla fine delle ostilità fra gentleman Carlo Udorovic si è assicurato il passaggio del turno nei confronti di Matteo Zaccherini, giunto pari merito, grazie ai migliori piazzamenti nelle tre prove complessive di qualificazione. Nel clou della serata il successo è andato all'attesissimo speciales. L'aitante allievo di Andrea Vitaliano si è segnalato per una permopronas di spessore che lo ha visto gravitare a largo sin dalle prime battute di gara, con veleno d'amore scatenato leader su Umbra Ferma e gli altri nel ruolo di spettatori. In arrivo però è arrivata l'inattesa conversione in open stretch di speciales, che ha colto in crisi veleno d'amore per passare e chiudere in un eloquente 1-12 netto sull'avversario con Umbra Ferma, che è riuscito solo a mantenersi in scia del vincitore. Così speciales, dopo aver corso bene a Napoli e a Taranto, si è confermato a Cesena, dimostrando di valere un posto in pista nel prossimo europeo di Cesena, pronto ad avverare il sogno dei Vitaliano. Grazie.